bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il nostro fortnite parleremo di un evento che ci sarà questo pomeriggio direttamente sul party royale vi farò vedere tutto parleremo anche dell'arrivo di una grande skin per una data già prefissata e vedremo anche delle informazioni interessanti relative ai cali di fps prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi l'immagine della season 3 di fortnite perché vi faccio vedere l'immagine della season 3 perché voglio farvi vedere una clip interessante che vi fa capire esattamente come subirà le modifiche la mappa guardate che meraviglia ragazzi come vedete siamo full screen e guardate che roba piano piano lentamente soprattutto nell'ultima fase la mappa tornerà alla normalità insomma quella che siamo stati abituati a giocare durante la season 2 vi ricordo che siamo nella fase numero 6 dell'innalzamento anzi dell'abbassamento del livello delle acque e vi ricordo che la prossima fase invece la vedremo l'11 luglio quindi ragazzi anche qua non abbiate paura di avere l'acqua perché piano piano scenderà e tornerà tutto come prima e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché un piccolo accenno sulla skin che è uscita ieri di capitano america volevo semplicemente chiedervi l'avete shoppata vi piace e volevo ricordarvi che c'è una challenge dedicata a capitano america vi ho fatto vedere come farla nel video news di ieri ve lo ricordo intorno all'ago languido sono presenti dei razzetti fateli partire per ottenere 14.000 o 25.000 punti esperienza io devo ringraziare il ragazzo che me l'ha regalata è stata veramente una sorpresa non attesa non sapevo proprio bella bella molto bella hanno fatto veramente un sacco di collaborazioni con gli avengers e adesso vedremo che cosa arriverà ditemi però se l'avete shoppata qua sotto nei commenti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa ve l'avevo già fatta vedere ve la ricordate sicuramente si suppone sia la sagoma di black manta è arrivata un'altra immagine che dovrebbe confermare praticamente al 100% quanto detto che è quello sembrerebbero delle ali e ci starebbe come cosa potrebbe essere il backpack che inserito insieme alla skin formerebbe la skin finale di black manta ed è quella praticamente che per chi segue acquaman ha il ruolo di antagonista perché abbiamo delle informazioni perché arrivano delle fonti molto attendibili che ci dicono big shop leak un grande leak nello shop black manta e black manta blades perché ci sarà anche un piccone dedicato potrebbe essere anche il piccone è la seconda sagoma quindi non è detto che siano le ali arriveranno nello shop il 16 luglio allora bisogna capire se per loro 16 luglio potrebbe essere il nostro 17 luglio alle 2 del mattino quindi tra il 16 e il 17 abbiamo questa novità acquaman il secret bp character vuol dire la skin segreta del battle pass sarà rilasciata lo stesso giorno ora a me sembra un po strano che acquaman venga rilasciato il 17 luglio o il 16 che sia però dovremmo essere forse giusti perché dopo la quinta settimana potrebbe potrebbe esserci quindi il giorno in cui verrà rilasciato acquaman verrà rilasciata anche la skin black manta una roba davvero interessante perché poi partirà tutta la storyline di acquaman sulla parte alta sinistra della mappa la vedremo poi con calma più avanti e parliamo invece di un argomento molto importante oltre che interessante l'evento che ci sarà questo pomeriggio alle ore 15 e 46 sul battle royale prima di parlarvi di quello che state vedendo vi faccio vedere il trailer ufficiale dell'evento di epic games senza la musica perché ho paura che ci sia il copyright eccolo qua dell'evento di epic games senza la musica perché ci sarà questo pomeriggio alle ore 15 e 46 sul come vedete ragazzi è un filmato molto importante e c'è molto di più in un argomento del genere innanzitutto vi voglio leggere direttamente dalla pagina di fortnite sabato 4 luglio partecipa alla proiezione speciale di we the people su party royale che cos'è we the people ops united presenta we the people un ciclo di conversazioni che promuovono il dialogo sull'identità razziale in america con voci di spicco della comunità bipoc neri nativi e persone di colore provenienti dal mondo dello spettacolo della musica dei media e degli affari sabato 4 luglio alle 15 e 46 guarda we the people su party royale lo spazio di fortnite dedicato gli agli spettacoli quindi il maxi schermo sul party royale we the people è presentato a van jones a lui si uniranno elaine welteroth ex caporedatrice di teen vogue jamel hill giornalista per l'atlantic killer mike rapper compositore visionario e lil baby un talentuoso musicista hip hop van jones e i suoi ospiti parleranno di come fermare il razzismo sistemico nei media nella cultura e nel mondo dell'intrattenimento ovviamente la situazione americana non è ancora placata tutto quello che è successo lo sapete anche meglio di me non può fermarsi dopo così pochi giorni e quindi fortnite decide di sensibilizzare la questione con questo nuovo format sul party royale per chi volesse partecipare vi ho appena detto come fare davvero un una cosa che è più che altro apprezzabile una cosa che non si è mai vista nella storia di videogiochi un evento da non perdere per essere un po più sensibilizzati e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve lo ricordate rischi reels ovviamente sì e la domanda vera è perché vi ho messo rischi reels semplice ragazzi perché volevo farvi vedere quest'altro video che ci mostra come sarà rapide rischiose alla fine della season quando più o meno riemergeranno tutte le location ne abbiamo già viste altre abbiamo visto scogliere scoscese una settimana fa arriva da poco questo nuovo spezzone che è davvero interessante per chi vuole sapere un pochettino come verrà modificata perché vi ricordo che le location che verranno riproposte quindi che riemergeranno dalle acque in realtà non saranno uguali a quelle che eravamo abituati a giocare ma come vedete ci sono degli spostamenti notevoli per quanto riguarda gli oggetti alcuni anche addirittura i forzieri le casse di munizioni e tanto tanto altro ragazzi quindi questa è una panoramica sulla nuova rischi reels sulle nuove rapide rischiose e andiamo ragazzi a parlare probabilmente dell'ultimo argomento di oggi perché è una cosa davvero molto interessante ho notato che alcuni di voi mi dicevano durante la live oppure quando abbiamo modo di giocare insieme o dei cali di fps in questi ultimi giorni beh ragazzi è stato scoperto il motivo ed il motivo è proprio la nuova renegade raider e il suo backpack ci sono stati dei ragazzi che hanno fatto dei test approfonditi con degli strumenti altamente tecnologici e si sono resi conto che turns out fornite default in poche parole utilizzare la skin default di fortnite migliora nettamente le prestazioni della propria macchina sto parlando probabilmente di pc ma credo che potrebbe essere anche un discorso che si possa fare su console però non mi permetto di azzardare questa cosa come vedete lui dice il nuovo capitolo 3 la blaze skin più il back bling abbassano i tuoi fps da 30 a 70 e lo stesso succede se il tuo compagno di squadra oppure un nemico che stai vedendo li indossa è una cosa veramente incredibile io non so se epigames ne al corrente alla peggio ragazzi qualcuno glielo reporterà se potete non utilizzate in questi giorni perché abbassa gli fps insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao